e ora passiamo alle immagini si dichiarano sempre in questo modo in image perché è un'immagine search e qua adesso possiamo mettere due tipi di link quello esterno alla nostra sito web oppure interno per importare un'immagine esterna cercare un'immagine che ci serve poi con control destro scegliamo e mi raccomando copia l'indirizzo dell'immagine siete sicuri di aver copiato l'indirizzo giusto perché vi apparirà un punto pnc alla fine o l'estensione che ha l'immagine e ovviamente questo è un altro tag dell'html che non si chiude perché non ha senso che si chiude naturalmente questa è un'immagine punto non è un contenitore che contiene l'immagine noi abbiamo generato il nostro Chrome ma una cosa molto importante che pretende il V3C per chiarezza anche se adesso non è molto più usato è l'alt e perché non viene più usato? perché l'alt contiene un testo alternativo da non confondere col title perché il title si vede sempre al passaggio del mouse invece l'alt è un testo alternativo se l'immagine per qualsiasi motivo non viene caricata quindi è stato inventato all'epoca quando la connessione internet non era potente come adesso quindi difficilmente potrà capitare all'utente ma sappiate che è buona norma inserirlo e sarete anche premiati dai motori di ricerca se troveranno appunto questo alt anche se come vedete non cambia assolutamente nulla però se voi andate con ispezione elemento e selezionate questa immagine siete sicuri che l'ha preso perché legge proprio nel codice alt chrome ripenendo i discorsi di prima possiamo aggiungere un AHF e in questo caso abbiamo una scatola cioè al suo interno c'è un'immagine quindi ovviamente noi cliccando qua sì a parte fare il target blank come vedete abbiamo collegato il nostro Google che tra l'altro lo vediamo prima anche di cliccare perché al passaggio del mouse vedete qua in basso a sinistra che contiene il collegamento google.it grazie a tutti che costrò